Siamo pronti, benvenuti qui nell'angolo della cucina perché abbiamo così aperto, stiamo per aprire lo streaming di questo che è il San Salvario Emporium noi siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di San Salvario Emporium ma ho al mio fianco il cuoco del Saga Poche Federico io gli chiederei a questo punto un applauso perché fra un po' lui vi regalerà qualcuno lo devo fare io l'applauso perché questo è un risotto che tu stai facendo per la piazza assolutamente sì un risotto semplice, io ho visto già gente che si lamentava e dice ma scusa ma è piccola la padella, come facciamo? ne esce di risotto, ne esce, non vi preoccupate un risottino allo zafferano, molto buono, semplice ma che vi farà gustare bene un piatto della nostra casa allora è anche il momento giusto perché qui siamo in quella che è la festa di questa piazza che è diventata un po' la festa di questa piazza il San Salvario Emporium succede regolarmente e diciamo voi Federico qua siamo al Saga Poche per cui da mia età prima per intenderci qui c'era il famoso Dama Dama avete ricevuto questa eredità pesante però vedo che avete rilanciato su questa cosa assolutamente sì, la famiglia che ha aperto questo ristorante ha avuto questa grande idea ha creato questa bomboniera all'interno di San Salvario io la definisco bomboniera perché all'interno sembra veramente una piccola casa di altri tempi e dove noi cerchiamo di dare qualcosa in più rispetto forse agli altri ristoranti con delle coccole in più ai nostri clienti allora adesso noi seguiremo tutto quanto, perché a me piace questa cosa qua adesso stiamo mettendo riso, ci vorrà una ventina di minuti noi diciamo tutto il pomeriggio seguiremo la situazione qui di San Salvario Emporium ma avremo anche modo poi di scoprire artisti verranno diciamo altri ospiti qui in questo nostro angoletto qui al Saga Poche che è il luogo che ci ospita tra poco avremo modo di ascoltare un artista che si accompagna soltanto con l'Ukulele per diciamo coloro i quali sono esperti di salotto sanno che è già venuta, è bravissima è vea ma fra poco verrà perché sarà ispirata da quello che adesso è semplicemente soltanto l'aroma che tu hai dato con un soffrettino di cipolla assolutamente, un soffrettino di cipolla per fare un risottino alla milanese molto semplice allora molto semplice però scusami la mia ignoranza vedo qua che tu già lo zafferano di solito uno se lo immagina una polverina tu c'hai lo zafferano liquido assolutamente sì perché utilizziamo uno zafferano greco crocos e uno zafferano in pistilli che va messo in infusione deve stare in infusione almeno 48 ore dopodiché esce quest'acqua molto colorata, molto buona, molto naturale soprattutto ed è sarà quest'acqua che andrà a dare proprio il tocco finale diciamo la ciglia e gira sulla torta di questo risotto noi torniamo tra poco torneremo tra pochissimo per vedere a che punto è la cottura vi invitiamo chiaramente a venire qui in piazza madama cristina perché continua per tutto il pomeriggio tra pochissimo torneremo anche in diciamo oltre che con risotto ci sarà anche della musica perché tra poco ci sarà Vea quindi vi aspettiamo a frappè grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti